Ci troviamo con il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, presidente bentrovato. Partiamo subito da un argomento, quello dei minori. Quante sono e quali le iniziative che Unicef Italia mette in campo per loro? L'Unicef Italia è presente nelle scuole, è presente negli ospedali, è presente nei comuni. Intanto è vero che abbiamo il progetto Città Amica dei Bambini, abbiamo il progetto Ospedale Amico dei Bambini. Abbiamo anche molti altri progetti, ieri per esempio ho firmato un protocollo d'intesa con la regione Puglia per quanto riguarda i musei, il Museo Amico dei Bambini, perché questi luoghi devono essere vissuti in un modo che i bambini possono trovare accesso e possono veramente avere qualche cosa che possa fare bene a tutti loro. Quanti sono in Italia i minori in difficoltà? In Italia purtroppo c'è un'emergenza, oggi c'è un'emergenza. Ci sono 1.200.000 bambini che vivono in povertà assoluta, mentre vi sono circa 2 milioni di bambini che vivono in povertà relativa. Questa è un'emergenza che noi abbiamo fatto presente al Ministero degli Interni e faremo in modo che talloneremo anche il governo perché si trovi una soluzione. Dobbiamo fare di tutto perché è inutile pensare, come lei sa, l'anno scorso c'è stato il trentesimo anniversario della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Beh, i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza pur essendo stati approvati 30 anni fa da 189 paesi del mondo non trovano ancora realizzazione completa in tutti i paesi, anche in Italia c'è una differenza, c'è una differenza tra i bambini del nord e i bambini del sud. C'è una differenza tra i diritti che vengono applicati al nord e i diritti che vengono applicati al sud. Ecco, quali sono allora in Italia le realtà più difficili? Dove si concentrano? Le realtà più difficili per la verità sono al sud, diciamolo francamente. Al sud, le isole, è un problema che deve essere gestito e noi come Unicef stiamo facendo di tutto perché queste esigenze vengono portate fuori e vengono gestite nel migliore dei modi. Sempre al sud non c'è distinzione tra grandi centri e piccoli centri, si diffondono un po' ovunque questi minori in difficoltà? Sì, purtroppo sì, insomma, perché diciamolo francamente, i bambini, i diritti dei bambini non vengono rispettati per come dovrebbero essere. Soprattutto questa mancanza si nota nel sud in generale. Ecco, ma perché secondo lei? Ma perché c'è poca attenzione. Io non è che voglio fare qui, voglio dare responsabilità a tutti i costi. Però purtroppo i diritti dei bambini molte volte vengono sottovalutati. Parliamo anche di bullismo e cyberbullismo che rappresentano un ambito di grande attenzione da parte di Unicef Italia. Ecco, quali sono in questo caso i progetti che mette dentro? Senza dubbio, io le dico subito. Noi come Unicef siamo contrari alla repressione, in assoluto. Noi siamo dell'avviso che il bullismo, il cyberbullismo, si può combattere con la scuola, con la formazione. Si può combattere comprendendo il giovane, formandolo, facendo prevenire questo disagio particolare che investe proprio i giovani. Ecco perché la scuola ha una importanza eccezionale. Ma è stato negli ultimi anni un fenomeno in crescita o semplicemente oggi se ne parla di più e sembra un problema amplificato? No, no, purtroppo è stato un fenomeno in crescita e quindi dobbiamo intervenire immediatamente, ognuno per le proprie responsabilità. Perché secondo lei c'è stato questo aumento di questi episodi di bullismo nelle scuole, tra gli adolescenti? Beh, perché forse c'è stato anche un disinteresse, perché anche nei giovani, diciamolo francamente, quando non hanno avuto una formazione particolare, quando la scuola non ha cercato di prevenire questo stato di disagio, in effetti la cosa è dilagata e quindi ci troviamo in questa situazione. In questo caso si può parlare di fenomeni maggiori al sud, come parlavamo prima, o in generale è diffuso in tutta Italia? Beh, questo è un fenomeno generale, io penso che sia un fenomeno generale. Quindi c'è bisogno secondo lei di intervenire dall'educazione, fin dalle scuole, con progetti? Sì, con progetti, ma soprattutto è necessaria la prevenzione. Non si combatte con la repressione. Un altro importante capitolo riguardante i minori è quello dell'integrazione. Quanti sono i minori di origine straniera in Italia e in che modo procede questa integrazione, questo processo di integrazione? Guarda, noi come UNICE abbiamo tutto un reparto dell'UNICEF internazionale, in base ad un protocollo che è stato fatto con il Ministero degli Interni, c'è un gruppo dell'UNICEF internazionale che sta curando particolarmente i minori stranieri non accompagnati. I minori stranieri accompagnati è che oggi, per la verità, in maggior parte si trovano nella Lombardia, nel Lazio, mentre, guarda caso, nel sud in effetti ve ne sono molto, ma molto di meno. Qualche giorno fa UNICEF e UPI hanno firmato un protocollo d'intesa della durata di tre anni che intende promuovere iniziative a favore dei bambini e degli adolescenti. Di cosa si tratta in particolare? Si tratta che in effetti c'è stato un impegno con tutte le province, con l'Unione Provinciale delle province italiane, perché il tema dei diritti dei bambini vengono supportati anche da tutte le province italiane. Io ho trovato grande disponibilità da parte dell'UPI. Noi vogliamo dare il nostro aiuto a tutte le province e penso che facendo un lavoro insieme possiamo arrivare a risultati ottimi.